L'omaggio a Santa Rita nel giorno a lei dedicato, con Cascia che è stata il fulcro delle celebrazioni. La giornata è iniziata con il solenne pontificale La Benedizione delle Rose, a cui è seguita alla presenza di autorità civili e religiose la posa in opera della prima pietra del nuovo ospedale Santa Rita. Presenti insieme al sindaco di Cascia, Mario De Carolis, Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione, Donatella Tesei, presidente della regione Umbria e l'assessore regionale Enrico Melasecche. Presenti inoltre il cardinale Marcello Semeraro, Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto Norcia e Suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero Santa Rita da Cascia. Tantissimi fedeli, non solo del luogo, provenienti da tutte le parti d'Italia, che hanno partecipato alle iniziative che si sono susseguite nelle tre giornate. Finalmente parliamo di lavoro, di muratori. Abbiamo fatto tanta burocrazia, tanta carta. Questo mi associo anche all'idea dell'assessore che è vicino a me, le ringrazio. Adesso dobbiamo parlare di opere che crescono, lavori che partono, perché altrimenti le nostre comunità sono scoraggiate. Sono sette anni e questo oggi è un segno di vigore alla ricostruzione. Parte finalmente la ricostruzione pubblica che negli anni scorsi era un po' la grande assente della ricostruzione. Anche qui in Umbria, mentre la ricostruzione privata sta segnando standard importanti, significativi e positivi, la pubblica deve partire e questo è un segnale che parte proprio da Cascia. In secondo luogo è un ospedale, un servizio, un elemento centrale decisivo perché oltre e dopo la ricostruzione ci sia la riparazione, ovvero il mantenimento in esercizio di comunità che però per superare quella che è, ahimè, la gelata demografica, hanno bisogno di servizi e i servizi sono in primis quelli che curano la salute. Quindi decisivo anche questo. Il terzo elemento è che è una grande festa di popolo, di comunità, nella giornata di Santa Rita, che ci fa ricordare come queste terre sono difficili da vivere, sono tremule, ahimè, esposte al rischio sismico, ma sono cariche di storia, di fede e di socialità. Il programma delle celebrazioni tra i momenti più significativi ha previsto sabato l'arrivo della fiaccola della pace e del perdono accessa nella città gemellata di Verona. Accompagnata fino allo scoglio della preghiera, domenica la consegna del riconoscimento internazionale Santa Rita 2023, il transito di Santa Rita, la rievocazione della morte e la salita al monastero. Le celebrazioni sono proseguite domenica con il cammino della fiaccola da Roccaporena, scortata dai motociclisti fino alle porte della città, dove è stata consegnata agli atleti che l'hanno accompagnata alla Basilica. Qui si sono compiuti l'incendio di fede e l'accensione tripo devotivo, fuoco che ha suggellato l'unione tra le comunità di Cascia e Verona.